questa crisi della juventus non sembra conoscere la parola fine è cominciata di fatto con quelle juvempoli disastroso con l'espulsione di milic e sta continuando con udinese inter e ora vediamo anche la partita col verona siamo oggi qui a parlarne con paolo ciao paolo e buongiorno ciao ben ritrovati cari amici bianconeri e allora se vedete queste immagini al nostro fianco non è perché abbiamo preso delle immagini l'abbiamo schiaffate l'altra semplicemente perché perché il buon paolo ha deciso di andare a vedere una bella partita della juventus perché aveva visto che quest'anno l'annata era positiva e forse ha scelto la partita un po meno adatta perché paolo raccontaci intanto quella che è stata diciamo la partita dalle scelte e poi soprattutto andiamo alla notizia perché si parla notizia abbastanza interessante direi direi che ho scelto ovviamente la peggiore partita da andare a vedere allo stadio ovvero juventus udinese 0 a 1 lautaro giannetti per cui già questo penso possa bastare a riassumere un po la mia la mia giornata bianconera è stata sì è stata comunque una giornata molto bella perché abbiamo passato ero con mio fratello abbiamo passato tutta la giornata zona stadium appunto quindi appunto la partita era le 20 e 45 quindi praticamente siamo arrivati a ora di pranzo abbiamo fatto il tour del museo infatti queste immagini che state vedendo testimoniano proprio questo il tour del museo della juve abbiamo fatto il tour dello stadio durante appunto diciamo il match day tour viene chiamato perché il tour nel giorno della partita e poi appunto abbiamo anche vissuto il momento dell'arrivo del pullman diciamo è stata una giornata letteralmente a tinte bianconere e poi ovviamente pre partita è stato fantastico perché lì praticamente non ti annoi un secondo tra giochi di luci lo speaker che ti coinvolge la camera che ti inquadra fanno anche delle foto tra l'altro che uno può andarsi anche a scaricare dopo dopo la partita utilizzando il biglietto c'è tutto ovviamente un'organizzazione che te lo rende praticamente quasi uno show e poi ovviamente appunto la partita che non è andata benissimo diciamo per usare un neofunismo e quindi questa juve che rimane nella crisi mi viene da dire rimane c'è cascata come dici tu contro l'Empoli ed è ancora all'interno della crisi assolutamente allora io sfrutterei queste immagini per prendere un po' spunto e analizzare la situazione ecco qua in queste immagini noi vediamo tre bandiere o comunque tre grandissimi giocatori soprattutto sono i tre palloni d'oro Zidane, Ned e Cannavaro ecco tre palloni d'oro, 98, 2003 e 2006 quindi cosa vuol dire pallone d'oro? grande il giocatore, un giocatore super ecco secondo te anche in virtù di quella che è stata la partita tra Verona e Juventus secondo te in questo momento è più un problema di allenatore quindi ne abbiamo parlo ma ne parleremo ancora il fatto di allegro e quant'altro oppure magari come dice qualcuno sì ok l'allenatore però a questa Juventus mancano i giocatori importanti i leader perché poi quando sei pallone d'oro sei anche un leader, un trascinatore uno che fa gruppo, che riesci a trascinare la squadra secondo te manca anche questo tipo di aspetto ci mancano i grandi giocatori soprattutto i giocatori che trascinano la squadra almeno soprattutto in virtù della partita di Verona ma viene anche da pensare anche la partita dell'Udinese che hai visto da vicino cioè hai avuto questa impressione dal vivo? assolutamente sì, assolutamente sì non ci sono più i Nedved dei Cannavaro di una volta mi vorrebbe da dire nel senso che la Juve è una squadra come abbiamo sempre detto che è un mix fra veterani quindi giocatori più o meno tra virgolette anziani o per meglio dire d'esperienza e giovani il problema è che se noi contiamo diciamo quanti sono quelli che possono trasmettere qualcosa a livello carismatico ai giovani della Juve attualmente in rosa ne fate poi ne metto un altro carismatico direi che proprio lui proprio lui credo sia proprio la cilegina sulla torta e quindi possiamo parlare di Scesni possiamo parlare di Rabiot io a Rabiot metto il punto interrogativo a Danilo metto il punto interrogativo cioè forse ha più senso citare alexandro a prescindere dalle prestazioni in campo è quello che magari è alla Juve da più anni quasi un decennio che alexandro è alla Juve e quindi mi vengono veramente in mente due tre nomi se non di più cioè c'è veramente poco in questa Juve mentre ecco qua ce n'è un altro ad esempio Marchisio ad esempio Buffon ad esempio Pirlo ad esempio Bonucci Chiellini Barzai le possiamo citare quanti sarebbe un altro qui te ne metto qua questa maglia rosa qua che non è il ciclismo non è il giro d'Italia non so te il rapporto del Piero ma io ti dico che se amo il pallone grazie a questo signore qua che grazie assolutamente grazie a una VHS prestata mi da un amico che mi ha fatto conoscere il mondo del calcio attraverso Alessandro del Piero quindi così tanto di parte e quindi poi da lì e quindi poi da lì parte ovviamente la passione per la Juve ma assolutamente diciamo che tutti quelli cresciuti nella nostra epoca circa quelli dal 90 in poi credo che con del Piero abbiano avuto veramente a che fare e quindi come stavo dicendo in questo momento nella Juve non vedo tantissimi leader carismatici quindi ok può prendere la parola Capitan Danilo per carità è un giocatore che comunque ha vissuto realtà importanti come il Real Madrid come il Manchester City assolutamente però anche lui non è alla Juve da così tanto tempo secondo me da poter avere quella parola in più certo rispetto ai giovani ovviamente sì è ovvio che rispetto a un McKennie ad esempio la parola di Danilo è più importante ha più potenza può entrare può entrare sicuramente in maniera più forte dentro diciamo diciamo dentro il tessuto di questa rosa in generale appunto io gli unici che ci mettono la faccia se infatti se ci fai caso anche dopo le sconfitte uno è Scesni l'altro spesso è Rabiot poi difficilmente si vede qualcuno che ci mette la faccia ecco oltre a questi giocatori quindi diciamo ecco qua Omar Sivori che ci la figura di Omar Sivori ci ricorda un po' qual era la vera Juve che ci ricorda esatto un po' quelli che sono i fasti della Juve del passato sì il museo infatti è pieno di queste raffigurazioni tra l'altro ad altezza uomo quindi ti fa ripercorrere appunto tutta la storia ovviamente queste immagini sono da te gentilmente proposte però quella che ti sto per proporre ora ci fa un po' rendere conto di quella che è l'attualità ossia l'obiettivo Juventus perché l'obiettivo è ritornare a giocarsi almeno questa competizione ossia la Champions League ecco la domanda che ti faccio è a questo punto in virtù del calendario ma anche di quella che è la classifica con diciamoci la verità un aiutino da parte del Monza perché grazie a Monza ieri dobbiamo ringraziare Balladino ecco secondo te questa Juventus che sta vivendo questa crisi c'è una parte di pubblico che dice occhio perché noi stiamo davamo per scontato che siamo già in Champions però lì dietro vanno tutte forti soprattutto Atalanta e Bologna e mi sa che una delle due andrà fuori dalla corsa Champions sta andando a dei ritmi forse nati di contro invece la Juventus che fa due punti in quattro partite con Empoli Udinese e Verona per cui la domanda ti faccio a questo punto questo obiettivo di questa coppa torna a essere un punto interrogativo torna in discussione il quarto posto a questo punto oppure si può stare tranquilli perché comunque 45 punti stiamo parlando di 9 punti di differenza e tra l'altro l'Atalanta ha una partita in meno quindi non so tu come la pensi da questo punto di vista è ancora una Juventus che è in bilico per la Champions League oppure con te il discorso Champions è bello che accantonato Allora intanto parto da un aneddoto che fa secondo me sorridere un po' di autoironia tra tifosi juventini nel senso che si entra in questa in quella che era praticamente la sala trofei praticamente adesso nella sala trofei c'è praticamente un gioco di luci con un video che dura circa tre minuti o una cosa del genere che ripercorre tutti i trofei vinti alla Juventus ecco per esempio lo Scudetto la Champions League tutte le coppe vinte in questi 120 anni di storia e man mano che si citano appunto le varie coppe si vanno illuminando si va a illuminare la teca che riguarda la determinata coppa quindi tornando alla Champions tu vedi che praticamente il 90% dei visitatori dello Juventus Museum quindi tifosi bianconeri fotografa la Champions League invece per esempio di fotografare la Coppa dello Scudetto la Coppa Italia o altro dicendo ebbe chissà quando arrivediamo questa è fotografa non è fotografa quindi c'è anche questa è capitato anche a me quando sono andato allo Scudetto eh sì lo visto anche io quelli là a dire sì ma chissà quando la vediamo esatto quindi diciamo questo penso sia un po' il comune denominatore tra il tifoso bianconero medio che va a visitare lo stadio ma ci può stare allora torniamo all'attualità secondo me eh la Champions sia abbastanza certa a questo punto della stagione a prescindere da questo momento di crisi che è inevitabile c'è e lo dobbiamo certificare è vero che l'Atalanta ha la partita in meno ma ce l'ha contro l'Inter e anche l'Inter non penso sia una squadra che voglia perdere punti a prescindere eh la Juve ha delle trasferte insidiose assolutamente perché deve andare a Napoli ci andrà tra l'altro da due settimane deve andare a Roma contro Lazio e Roma deve andare anche a Bologna stesso cioè ad agosto se mi dici che Bologna-Juve è uno scontro diretto per entrare in Champions mi metto a ridere e invece oggi non c'è assolutamente nulla da ridere perché il Bologna se viaggia a questa a questa velocità e con questa qualità di gioco è sicuramente una squadra che può mettere in difficoltà la Juve la Juve è stata messa in difficoltà dal Verona è stata messa in difficoltà dall'Udinese perché non dovrebbe essere messa in difficoltà dal Bologna quindi ci può stare però in generale io credo che alla lunga tutto quello tutti i punti diciamo raccolti soprattutto nel giro d'andata anche quando le cose giravano bene perché il gol di Gatti a Monza per dire il gol di Cambiato al 96esimo all'andata col Verona tutte queste partite vinte appunto di Cortomuso eccetera eccetera quindi tutta quella parte diciamo di campionato in cui riuscivamo a racimolare i tre punti anche non giocando benissimo secondo me potrebbero risultere diciamo decisivi in positivo per la Juve nel senso che a fine stagione comunque secondo me in un modo o nell'altro arriviamo arriviamo nella posizione Champions non so se secondi o terzi perché comunque dipende anche dal Milan e da quanto il Milan andrà avanti in Europa League che poi magari Pioli come ha fatto contro il Monza si suicida facendo turnover che secondo me non ci azzeccava niente perché hai già praticamente archiviato il passaggio col 3-0 giovedì contro il Ren perché fai turnover col Monza quando puoi superare la Juve mistero di Pioli io questo sinceramente non l'ho capito però meglio così figurati e quindi sinceramente ecco ora facendo tutti gli scongiuti del caso però mi sembra veramente difficile che la Juve perda la qualificazione cioè fatico a credere che i qualificati in Champions siano ad esempio Inter, Milan Bologna Atalanta mi sembra stranissimo arrivare a fine anno a poter dire questo certo per quello che esprimono in campo Atalanta e Bologna sicuramente giocano meglio della Juve si meriterebbe un piazzamento europeo 100% però la Juve appunto fa valere comunque la prima parte di stagione che è andata comunque abbastanza bene non esteticamente parlando ma sempre a livello di risultati ecco questo voglio sottolinearlo sempre di risultato di risultato